ciao a tutti da roberto vezzoli e da beretta benvenuti al nono appuntamento dedicato al mondo del tiro dinamico sportivo shotgun due accessori molto importanti sono rappresentati dal magnete e dal match saver utilizzando correttamente questi due accessori saremo in grado di risolvere brillantemente una lunga serie di imprevisti che possono accadere in gara il magnete è nato per camerare in opzione 3 la cartuccia in canna nel minor tempo possibile ecco che se non espressamente vietato dal briefing il magnete che rappresenta una clip ci offre la possibilità di recuperare del tempo prezioso e soprattutto ci lascia una cartuccia in più sul fucile in caso di imprevisto questa cartuccia in più è quella che noi lasceremo nel match saver che anch'esso una clip costituito da materiale plastico molto efficace che trattiene una munizione appena oltre la finestra della camera di espulsione e nel caso in cui finissimo le munizioni ci mancasse un solo colpo il termine dell'esercizio ecco che con meno di un secondo abbiamo risolto appieno una situazione molto compromettente sul mio fucile ho montato un match saver anche sul lato sinistro per due motivi il primo è quello che mi offre un riferimento preciso sul quale mettere la mano sinistra sempre il secondo è che i movimenti molto brevi dove ho la necessità di caricare una sola cartuccia io posso pescare questa cartuccia dal match saver e andare a inserirla molto velocemente alla prossima